Anche l'associazione, oltre le idee di Canicattì, ha preso parte ieri al secondo appuntamento e inserito nell'ambito dell'iniziativa legata alla settimana della legalità a Giudice Saetta Livatino, coinvolti soprattutto i bambini. Sì, noi come uniani siamo stati invitati a partecipare alle iniziative della settimana della legalità dall'associazione Amici e Giudice di Sola Livatino e Tecnopolis. Come uniani siamo stati ben lieti di creare un'iniziativa. Negli anni passati abbiamo creato il quadrangolare di calcetto con le forze dell'ordine, abbiamo creato dei cortometraggi, poi abbiamo preso in gestione le due aiole, non a caso sono quelle intitolate Giudice di Sola e di Sola Livatino e quest'anno abbiamo deciso di rendere partecipi e protagonisti i bambini nella pulizia delle aiole che noi gestiamo annualmente. Loro sono stati guidati dai genitori, da noi dell'associazione Oltre le idee e dalle altre associazioni a pulire e poi piantare un albero come simbolo della legalità, l'albero dell'olivo, quindi simbolo della pace. È riuscito in maniera molto tranquilla e molto bella, una giornata di spensieratezza, i bambini sono anche divertiti, ma tengo a precisare che è un gesto simbolico, ma dietro c'è sempre qualcosa di molto più importante, il simbolo della legalità, della commemorazione dei nostri due martiri canicattinesi. Verrete soddisfatti di come si sono svolte i lavori, l'iniziativa? Sì, abbastanza, c'è stata grande partecipazione sia dei bambini che dello genitore che da altre associazioni. Tengo a ringraziare in modo particolare gli amici ai giudici di Sola Livatino per averci invitato e per aver collaborato in maniera attiva in questa realizzazione di questa iniziativa. Grazie a tutti.